Quadriglia rossa, al mio segnale! Il nostro piano fallirà se non eliminiamo subito quegli incrociatori. Avviate l'attacco! Ness, andiamo a arrivare! Non smettano di spararmi! Non smettano di spararmi! Entriamo in azione, squadriglia rossa! Non riusciremo a passare con quegli incrociatori imperiali di mezzo. Ottimo! I nostri ala Y hanno completato l'attacco. Perdo il controllo! Avanti così! Cedimento strutturale imminente! Finiteli! Sono riconoscente! Bene! Ora mettiamoci al lavoro! Ammattieri alleati in arrivo! Incrociatori eliminati! Ricerca difese aggiuntive! Il motore è andato! Il motore è andato! Sono d'ascuti! Dobbiamo colpire i generatori! Dobbiamo colpire i generatori! Dobbiamo colpire i generatori! Una squadriglia di ala Y si è unita a noi! Scontateli mentre eseguano il loro attacco! Il motore è perduto! I nostri nemici, la sconfittante! La squadriglia di ala Y ha portato a termine il bombardamento! Generatore distrutto! Continuate! Io ho finito! Dovete tirare avanti senza dimostrare! La nostra forza blocchi subisce gravi danni! Difendetela! Lascia che la forza scorra attraverso te! Hanno distrutto la forza blocchi! Non possiamo permetterci di perderne un'altra! Danneggiata! La mia nave viene! Hanno distrutto entrambe le forza blocchi! Un altro distrutto. Va avanti così. Le loro menti hanno inviato. Andiamo in azione, squadriglia rossa! Un altro distrutto. Un altro distrutto. Un altro distrutto. Un altro distrutto. Che guai lo c'è ai calciari stavolta? A parte fama, ricchezza ed eterna gratitudine. Ancora uno! Siamo sul vertaggio! Non sono tanto presuntuosi quando esplodono. Generatori eliminati. Attendere, scansione in corso. Che tragico. Torca divertente. Vogliamo rifare così, eh? Nuovi ordini. Colpite le morse da tracco. Così lo Star Destroyer resterà senza scudi. Il nostro incrociatore da battaglia è arrivato giusto in tempo. Distruggete quelle difese e potrà sparare con i cannoni. Abbiamo dei bombardieri ala Y di rinforzo. Proteggeteli. Prendi questo. Sottospecie di compagno. Sottospecie di compagno. Udi fuori uso. Concentrare il fuoco sul reattore. Non abbiamo molto tempo. Piazza da brutto tempo. Forse avevi ragione sulle nostre probabilità. Ho sempre ragione. È uno dei miei talenti. Abbiamo perso un gruppo di ala Y. Proteggete quei bombardieri. Scudi nemici ripristinati. Fuoco contro le morse. Fuoco con entrambi i cannoni. Perfetto. Quadriglia rossa. Vichiamo di chiuderla. Scusi disattivati. Abbiamo poco tempo per colpire il reattore. Presto, prima che li riattivino. Lasciati guidare dalla porta. Il reattore dello Star Destroyer sta cedendo. Non reggerà a lungo. Ce l'abbiamo fatta. Ora l'impero allenterà la presa sull'intero sistema. Grazie.